Vede, in speranza, questo giorno, come ha detto Don Gabriele, un giorno di tristezza, era un giorno di tristezza, in quel momento in cui solo Gesù, Maria e pochi hanno perduto questo miracolo nella tristezza, invece per noi oggi tutto è cambiato. Il venerdì santo è diventato un profilo di gioia, perché abbiamo capito che è un giorno della tristezza di questo mondo. Nel rezzo di Tantino, questo giorno oggi, quando si fa la preghiera, quando si porta la vara in concessione, il corpo di Cristo, si mette alla destra e bianca, perché proprio Gesù ha rovesciato tutti i similità, ha rovesciato tutti i concetti che abbiamo per noi. La tristezza non è venuta in tristezza, perché cambia il momento di gioia, perché tramite questa tristezza siamo trovati. Possiamo noi trovare in ogni momento di sofferenza della nostra vita una salvezza. e con il tuo spirito. Amen. In nome del Signore, andiamo in pace. Prendiamo grazie a te. Prendiamo grazie a te. Prendiamo grazie a te. Prendiamo grazie a te.